ci aspettano per il futuro dei progetti musicali molto interessanti uno di questi è l'uscita del nostro ultimo disco che abbiamo registrato a dicembre del 2019 con due nostri buoni amici musicali che sono ori cam violista del quartetto jerusalem e eckhart runge violoncellista fondatore del quartetto artemis il cd italian postcards uscirà entro la fine del 2020 un altro progetto musicale molto interessante che andremo a realizzare è l'incisione e comunque l'esecuzione dell'arte della fuga di bach in una versione un po particolare perché mi troverò io personalmente costretto a suonare la viola no ma lo faccio con piacere perché è una bellissima sarà una bellissima esperienza per me simone sarà costretto a suonare una viola ancora più grossa di quella che già suona che è una viola contro tenore tenore per cui sarà una versione di bach veramente originale al cento per cento gli impegni del quartetto nel prossimo futuro saranno tanti saranno molto interessanti andremo a suonare in sale che noi amiamo come la wigmore hall a londra o la sala di ginevra o in italia società del quartetto di milano e poi la carnegie hall di new york finalmente tanti anni che aspettavamo questo questo momento è finalmente arrivato ad aprile del prossimo anno 2021 ci sarà un grande tour negli stati uniti e tra le varie sale finalmente ci sarà il nostro debutto la sala della carnegie hall che è sicuramente una delle sale più prestigiosi del mondo spero nei prossimi vent'anni di continuare col quartetto la strada che abbiamo intrapreso già da tempo e di intensificare ma non troppo il numero dei concerti e delle attività anche se devo dire che è bellissimo comunque viaggiare scoprire posti nuovi e soprattutto poter suonare in sale nuove spesso e volentieri ovviamente una piccola cosa mi auguro anche tra vent'anni di riuscire a prendere un anno sabatico per potersi anche rilassare un po' e insomma godersi tutto quello che sia riusciti a incamerare in questi futuri vent'anni beh i primi vent'anni in quartetto sono letteralmente volati quindi mi auguro che i secondi venti magari vadano un pochettino più lenti ma tutto sommato io sono un violista quindi è come dire è come essere sempre in vacanza come dice qualche amico e quindi mi auguro altri bei vent'anni di vacanza c'è una questione diciamo che nei prossimi vent'anni dovrebbe essere risolta nel senso che far quartetto è molto bello ma è anche molto difficile e spesso un investimento quindi io spero nei prossimi vent'anni di recuperare quel milione di euro che ho perso in questi vent'anni per i prossimi vent'anni io sono un sognatore ma in questo caso sarò molto terreno sarei contento di esserci per i prossimi vent'anni esserci è già abbastanza grazie grazie grazie